A poco meno di un anno dalle prossime elezioni regionali, il campo progressista Sardegna ha avviato da nuovo il percorso che porterà la formazione in centro-sinistra a presentarsi all'appuntamento con le urne, ma anche in vista delle amministrative in programma in Sardegna a giugno. L'appuntamento intitolato Il nostro programma per la Sardegna è stato ospitato stamattina nell'auditorium del Museo del Costume. Due temi al centro della giornata dei lavori. Parità di genere è un obiettivo politico che ha visto una tavola rotonda coordinata dall'avvocatessa Margherita Azzurru che sulla doppia preferenza di genere aveva presentato un ricorso in tribunale, in cui hanno partecipato la consigliera regionale di campo progressista Anna Maria Busia, una delle promotrici della norma sulla doppia preferenza di genere, la deputata del PD Romina Mura, la senatrice di Leue, capogruppo del gruppo misto, Loredana De Petris. Al centro della discussione il ruolo delle donne in politica, nelle istituzioni e nella società italiana in generale, in cui la parità di genere è fatica ad affermarsi. Basti pensare che il Consiglio regionale della Sardegna, solo dopo una lunga battaglia, ha approvato alcuni mesi fa la norma sulla doppia preferenza di genere per porre fine alla vergogna di un'assemblea regionale in cui su 60 membri figurano solo 4 donne. Altro tema, l'ordine del giorno dei lavori, come va la Regione, con la partecipazione del Presidente della Regione, Francesco Pigliolo, che ha dialogato su diversi temi con Francesco Cucini, Elisa Meloni e Luca Azzori. Dal pubblico gli ex parlamentari di campo progressista Roberto Cappelli e Luciano Uras e il senatore e il segretario regionale del PD Giuseppe Luigi Cucca.